Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di Minecraft Dungeons, un titolo che non ha bisogno di presentazione se provenite appunto da Minecraft, ma voglio illustrarvi le caratteristiche principali di Minecraft Dungeons, anticipandovi che il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Se disponete di un abbonamento a Game Pass potete giocarlo tra virgolette gratis, quindi non avete bisogno di acquistarlo. Potete direttamente scaricarlo e installarlo sulla vostra console utilizzando appunto l'abbonamento Game Pass. Minecraft Dungeons è diciamo un calderone i cui ingredienti sono Minecraft appunto e Minecraft Story Mode, la versione diciamo di Minecraft dotata di una storia, quindi a questi si aggiunge poi la componente ruolistica che rendono appunto Minecraft un gioco di ruolo con visuale isometrica, tra poco vedremo. Il gioco inizia così, con la creazione del nostro personaggio non abbiamo tante opportunità purtroppo, non vi è la possibilità di sbizzarrirsi a personalizzare il personaggio al meglio, cioè scegliendo magari, che ne so, capigliatura, abbigliamento, no. Ci sono dei personaggi ben predefiniti che dovete scegliere e che, naturalmente, cambiano soltanto in aspetto ma non in caratteristiche tecniche. Tutti però possono indossare tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti ed utilizzare tutte le abilità che sbloccherete nel corso del gioco. Una volta che avete scelto il vostro personaggio potete partire con l'avventura. Il gioco vi pone subito di fronte un tutorial nel quale vi vengono illustrate le poche ma essenziali meccaniche che dovete apprendere per giocare. Essendo un gioco di ruolo, inutile dirvi che si livella, ci si potenzia, ci si personalizza e così via dicendo, anche se in modo limitato. Come potete vedere, lo stile grafico è appunto quello di Minecraft, da cui deriva appunto il gioco. Quindi prendete Minecraft, quindi con lo stile grafico originale e trasformatelo in un gioco di ruolo isometrico, ossia con la visuale dall'alto. Questa è la lobby, se così possiamo definirla, cioè il fulcro principale del gioco, da dove poter commerciare attraverso il mercante errante e il fabbro. Il fabbro vi dà appunto equipaggiamenti e armi casuali, mentre il mercante errante vi dà, diciamo, delle reliquie, o meglio, dei manufatti casuali da poter equipaggiare. Ebbene sì, non è possibile scegliere cosa acquistare, ma il tutto viene gestito in modo casuale, con le gemme che trovate in giro per il gioco, quindi non dovete acquistare nulla, non ci sono tranquilli le microtransazioni, come si suol dire. Ma, giocando, ottenete queste gemme verdi che potete scambiare per ottenere dai mercanti oggetti casuali. Infatti, accedendo all'inventario, qui verranno posizionati i vari oggetti che ottenete ed ogni oggetto, come potete vedere, vanta caratteristiche differenti ed un livello proprio, ovviamente. Quindi, nel corso dell'avventura, man mano che livellerete con il personaggio, potrete scegliere di equipaggiare un'arma da mischia differente, un'arma dalla distanza e, naturalmente, l'armatura. Oltre tre manufatti che vi permettono, ad esempio, di avere più difesa, più forza, più agilità, di curarvi nel tempo, di scoccare frecce esplosive, eccetera, eccetera. I manufatti sono davvero tanti. Anche le armi e le armature non sono poche, quindi nel corso dell'avventura potete ottenere equipaggiamenti di vario tipo. I livelli non sono tanti, anzi, sono molto pochi, però possono essere affrontati a più difficoltà ed essendo livelli, diciamo, generati in alcuni casi proceduralmente, vi capiterà a volte di imbattervi in un livello che in parte è identico, ma in parte cambia. Cioè, se l'avete affrontato, ad esempio, ad una difficoltà e in un modo, se lo affrontate nuovamente cambia in alcuni punti, soprattutto a seconda della difficoltà. I livelli sono questi, ma sono in arrivo molti altri tramite dei DLC. Quindi, cliccando sul livello, come potete vedere, avete la possibilità di selezionare la difficoltà. Naturalmente, come vi mostrerò adesso, le difficoltà sono bloccate a seconda del vostro livello attuale. Quindi, appena partite, diciamo, con l'avventura, potete giocare alle prime difficoltà. E in basso, come potete vedere, viene riportato il livello consigliato. Ed ovviamente maggiore è il livello che sceglierete e migliori saranno non solo le ricompense in termini di esperienza, ma anche i livelli di equipaggiamento e manufatto. In basso ci sono i vari manufatti e gli equipaggiamenti che potete ottenere maggiormente in questo livello. Quindi, ad esempio, se giocate Pascoli di Zucca, potete ottenere quegli equipaggiamenti e quei manufatti che trovate in basso, i quali variano in livello a seconda, naturalmente, della difficoltà. Mentre a destra, come potete vedere, vi è il vostro livello. Quindi, in questo caso, ad esempio, io sono 28, quindi fino all'ultimo livello di difficoltà posso giocarlo, tra virgolette, tranquillamente ed ottenere gli equipaggiamenti che mi servono, senza, diciamo, troppi sforzi, perché sono un livello alto. Detto questo, vi mostro il gioco. Quindi, diciamo, le missioni sono queste. Ogni missione poi ha dungeon segreti e altre cose da recuperare, come le reliquie nascoste, diversi livelli di difficoltà e, naturalmente, i boss di fine livello. Vi mostro il primo, in modo che non spoilerò troppo, metto un livello di difficoltà intermedio, così vi do la possibilità di vedere. Ora, i livelli, come vi ho anticipato, sono isometrici, quindi hanno la visuale dall'alto. Potete giocare in singolo o in cooperativa online con gli amici. Quindi avete la possibilità di affrontare l'intera avventura da soli o in compagnia dei vostri amici. Non ci sono caricamenti a parte questo, ma quando, diciamo, vi trovate nel livello potete entrare ed uscire dai vari dungeon senza caricamento. Ogni livello è accompagnato dalla trama, ovviamente, perché Minecraft Dungeon ha una trama, e poi verrete lasciati liberi di giocare. Ora, con il controller, premendo il pulsante A, come potete vedere, eseguo attacchi da mischia, mentre con il dorsale destro utilizzo le frecce, che naturalmente non sono infinite, ma hanno delle munizioni che possono essere raccolte in giro per il livello. In basso, come potete vedere, c'è il cuore, la mia attuale esperienza, il mio livello. Le mie dotazioni, quindi non solo, diciamo, la pozione, ma anche i manufatti, le frecce e ovviamente la mappa, che può essere attivata e disattivata all'occorrenza. Utile se magari volete rintracciare dei forzieri, volete assicurarvi di aver esplorato tutta la zona, perché poi, come potete vedere, man mano che esplorate, si colora di bianco, quindi diciamo, in questo modo avete possibilità di capire dove siete stati. Naturalmente, come vi ho detto, maggiore è il livello di difficoltà, migliori saranno le ricompense, di conseguenza maggiori saranno anche i nemici, oltre al fatto che saranno più aggressivi, quindi impiegherete più tempo per ucciderli, poi ovviamente varia anche a seconda della vostra esperienza. Come potete vedere, diciamo, le gemme verdi si trovano facilmente rompendo i vasi, quindi al termine del livello verrete ricompensati con degli oggetti extra e potete poi spendere le gemme presso il fabbro o il mercante per ottenere oggetti casuali. Non potete mettere il gioco in pausa, perché morirete, sia che giocate offline che online, anche se fate così morite, oppure così, oppure se accedete all'inventario morite. Quindi ecco, in questo caso, ad esempio, ho avuto un oggetto che è di livello basso e la freccia rossa verso il basso me lo indica, quindi posso tranquillamente romperlo e ottenere le gemme verdi. Quindi le gemme verdi possono essere accumulate anche disfandosi degli equipaggiamenti inutili. Questo, diciamo, è tutto per quanto riguarda Minecraft Dungeon. Spero di essere stato chiaro, spero di avervi dato una panoramica generale sul titolo e vi ricordo che è già disponibile per tutte le piattaforme menzionate. Se questo video vi è servito, vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportarci e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.